Ciao ragazzi, oggi sono tornato dopo un po' di tempo per parlarvi di un argomento a cui tengo moltissimo. È un argomento... Scusate. È un argomento a cui tengo perché... Scusate un secondo. È un argomento a cui tengo perché dopo parecchio tempo, dopo parecchi anni, finalmente... Lele, lele, ma che ti sei spruzzato quello spray lì? Quale? Quello sul tavolo giallù? Eh sì. Sì, perché? Perché quello ti ho riportato in farmacia, Lele. In farmacia? Perché lo dico? Eh, leggi qui. Può provocare prurito, diarrea, vomito, escoriazioni cutanee, incontinenza, perdita temporale della memoria. Me la soffatta addosso. Finalmente, adesso sto un po' meglio. Lele, ma come stai? Che hai fatto? Ma tu chi sei? Come chi sono? Sono Gianluca, Lele. Ma Gianluca chi? È quello che abita con te. Ma io non ti conosco. 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 Grazie a tutti.